Termoli, Campomarino, Porto Cannone, poi Larino, San Martino in Pensi, Lissi e Oruri, Matrice, Petrella Tifernina. La manifestazione cammina a Molise, quest'anno ripercorre il cammino di San Leo e delle Carresi, per poi snodarsi tra i vicoli del centro storico di Termoli e Larino e fermarsi a meditare nelle chiese romaniche di Matrice e Petrella. Dall'8 all'11 agosto i 250 partecipanti iscritti, provenienti da diverse regioni d'Italia, si cimenteranno per la ventunesima volta in questa esperienza che ormai, ha detto l'organizzatore Giovanni Germano, durante la presentazione al Comune di Campobasso, ha passato la maggiore età. Siamo arrivati alla ventunesima edizione, il tempo passa ma noi ancora stiamo qui. Siamo qui a proporre le terre molisane come terre di cammino che potrebbero, e io di questo lo sono sicuro, e per questo io come la mia associazione e tutti quelli che collaborano con la nostra associazione, l'Associazione Cultura della Terra, ci diamo da fare perché appunto questa ricchezza di questa terra possa far nascere un turismo che noi chiamiamo mitigato e che possa senz'altro riqualificare le nostre aree interne. Una iniziativa che promuove il Molise mettendo in mostra i gioiali della regione, ossia i piccoli comuni con i loro tesori spesso sconosciuti. L'anno scorso abbiamo fatto un gemellaggio con i nostri migranti in Argentina. In Mar del Plata nel mese di marzo eravamo ben 600 persone a camminare, e quindi abbiamo portato, abbiamo esportato questa formula anche in Argentina, e quest'anno verranno per la prima volta dei rappresentanti di associazioni mulisani in Argentina a camminare con noi.